Hanno terminato la prima parte dei lavori e dal 31 maggio bisognerà iniziare anche quelli che interessano il tratto di strada tra Palazzo Montenegro e Piazzale Legno Flacco escluso. Ma il Comune di Brindisi non ha ancora sborsato la prima tranche. Si tratta dei lavori sul lungomare Regina Margherita, la ditta barese di Pasquale De Marco che si è aggiudicato l'appalto per 2 milioni 700 mila euro non si è ancora visto neanche un euro pur avendo terminato una prima parte o meglio avendo maturato la prima tranche che corrisponde a 270 mila euro. La richiesta al Comune di Brindisi da parte della ditta è stata fatta il 2 aprile ma non è ancora arrivato nulla. L'architetto Fabio Lacigno responsabile del procedimento delle opere ha assicurato di aver firmato il certificato di pagamento ma ora tutto è in mano alla ragioneria che al momento non avrebbe liquidità. La promessa fatta dagli uffici comunali è quella di risolvere il pagamento entro il 15 giugno. La ditta è pronta ad aspettare altre due settimane ma poi potrebbe assumere qualche provvedimento prendendo in considerazione anche la sospensione dei lavori. Sul cantiere lavorano circa 7 operai spiega il titolare Pasquale De Marco abbiamo bisogno di liquidità aspettiamo il 15 prossimo e poi assumeremo delle decisioni. Intanto è stata convocata per il 31 prossimo la conferenza dei servizi per dare il via alle nuove opere. La riqualificazione del tratto da Palazzo Montenegro sino al piazzale Legno Flacco escluso per un costo di un milione 149 mila euro.